Ve l'avevo promesso un video sui difetti di questa vettura Allora, come vi ho già detto c'è stato qualche intoppo in più di quello che pensavo perché mi iscrivete in tanti, quando la ritirate, quando la acquistate magari perché avete utilizzato il mio referral per avere 1500 km gratuiti quindi molte volte mi scrivete appunto Andrea, ho trovato questo difetto, la mia me l'hanno consegnata così, la mia me l'hanno consegnata colà e vedevo che man mano che passava il tempo, ricordiamo che la mia vettura precedente l'ho ritirata nel 2019 insomma, man mano che passava il tempo ricevo sempre meno messaggi di questo tipo quindi la mia percezione era appunto che la qualità costruttiva di Tesla era migliorata Allora, andiamo a vedere un po' di cose, anche perché questo video lo utilizzerò un po' come checklist vi lascerò poi qui in descrizione un link per una checklist del 2021 fatta da un ragazzo forse riesco a farne anche una direttamente io aggiornata se vi ricordate nel 2019 ho pubblicato questo pdf che la gente poi si stampava e potevo andare ad utilizzare per andare a smarcare poi tutte le cose che controllava sulla vettura io partirei da questa parte, qui non c'è un difetto ma la prima cosa da controllare sicuramente è che il baule si apra correttamente e ovviamente si chiuda correttamente ma non andiamo ancora a chiuderlo controlliamo ovviamente che ci siano i vari tappetini ecco qui per esempio vedo già che c'è un po' di dislinamento ma non è un problema perché tanto si può comunque sistemare e qui di solito Tesla va a riposizionare i vari connettori di carica che vi consiglio di controllare perché ovviamente se questa cosa non vi funziona potreste avere un problema qui abbiamo il cavo Mannekes, vi serve per le colonnine tipo 2 quindi le N, l'X eccetera eccetera questo è il connettore con la spina Asciucco attenzione con questo non ricaricate molto veloce e vi sconsiglio la ricarica continua, diciamo continuativa più che continua con questo cavo quindi la prima cosa da controllare ovviamente è che ci siano questi accessori perché sono ovviamente indispensabili poi aspetta che butto via questo, lo lasciamo qui, poi lo sistemo poi ovviamente controllate anche le guaine se vi ricordate sulla vecchia Model 3 questa guaina dava qualche problema per quanto riguarda l'acqua poi l'hanno aggiornata con questi buchetti che come vedete permettono lo scolo dell'acqua ma qui non c'è molto da controllare come per quanto riguarda l'apertura bisogna controllare anche la chiusura quindi una volta aperta possiamo richiuderla e non c'è nessun problema ovviamente la prima cosa da fare ragazzi è sicuramente quella di provare a ricaricare l'auto sia in AC come sto facendo io con Prism tra l'altro questa è la seconda Prism, forse non ve l'avevo detto vi mancava questo passaggio ma una ce l'ho qui e una ce l'ho lì quindi questa è la seconda Prism che mi sono fatto mandare provate la ricarica in AC di CEO controllate che tutto funzioni correttamente questo si apre, ve l'ho già spiegato miliardi di volte, o la pressione o dal tablet o dal cellulare controllate l'apertura e la chiusura di questo sportellino e controllate soprattutto l'allineamento ora vi faccio vedere il primo difetto che fatalità qui contro sole è anche difficile da enfatizzare vediamo se spostando magari la camera riesco a rendere l'idea è quasi impercettibile con questo sole ma vi garantisco che in penombra questo pezzo qui si vede chiaramente che manca sembra quasi come manchi una goccia di vernice non so esattamente perché al tatto è praticamente liscio quindi non lo so altra cosa da controllare ovviamente sono gli allineamenti questa cosa qui è diciamo un po' sbagliata perché come potete vedere questo è lo spazio che abbiamo in questa posizione mentre se ci spostiamo dall'altro lato lo spazio è decisamente più contenuto e questo è quello che voi desiderate dalla vostra vettura o se non altro che abbia stesso spazio a destra e a sinistra poi andiamo a parlare anche di come farsi far per risolvere queste problematiche andiamo sul vero grosso probabilmente difetto di questa vettura che è qua anche qui non so se riuscite ad apprezzare dalle qualità dell'immagine magari se così non fosse mi preoccuperò di aggiungervi un'immagine ma ecco magari faccio così qui c'è un vero e proprio striscio la pelle qui è totalmente rovinata non credo sia possibile recuperare in alcuna maniera quindi io credo che molto probabilmente dovranno sostituirmi l'intero sedile posteriore questo è un problema abbastanza grosso qui avete le due USB-C ovviamente le dovete provare io devo ancora provarle ma provatele caricando qualcosa per verificare che effettivamente entrambe le porte USB-C funzionino correttamente passiamo a altri piccoli difettucci che io in questo momento ho riconosciuto che probabilmente se non avessi guidato l'altra Tesla Model 3 e non conoscessi questa macchina abbastanza bene neanche me ne sarei accorto magari avrei fatto un po' di strana questa cosa ma magari è giusto così allora come potete vedere questa guaina è proprio inserita male non sta insomma è abbastanza... non saprei neanche come definirla questo difetto di inserimento della guaina chiaramente è qualcosa che va risolto perché è presente sia di qua che da questo lato e fatalità ho controllato altre vetture che erano lì vicine che stavano per essere consegnate e non avevano questo problema quindi sicuramente qualcosa di questa vettura la stessa cosa la possiamo notare in questa zona che come potete vedere è completamente disallineata quasi cade vedete quasi cade e la stessa medesima situazione si presenta anche in questo lato quindi è probabilmente qualcosa di simmetrico qualcosa che non è andato bene nella simmetria dell'inserimento di queste fascioni diciamo grigi che non va bene e una cosa che mi ha fatto a notare Luigi è che le casse queste casse qui hanno un design completamente differente da quello che veniva presentato sulle Tesla Model 3 2020 non so se le ultime 2021 a parte questa perché questa qui è proprio diciamo l'ultimissima come potete vedere davanti abbiamo anche quella fascia di legno che non è presente su tutte le 2021 quindi questa diciamo è l'ultimissima altra cosa da controllare sono ovviamente queste luci di cortesia che devono ovviamente funzionare correttamente e questi ganci porta abiti che devono appunto aprirsi e richiudersi in maniera corretta come sta succedendo in questo caso le citture di sicurezza neanche vi dico che devono funzionare correttamente perché mi sembra ovvio non c'è molto da dire una cosa da fare magari quando fa un caldo bestia come sta succedendo in questo momento è provare anche il riscaldamento dei sedili che in alcune case è incluso appunto col veicolo per esempio la mia model 3 long range ce l'ha incluso quindi se avete i sedili posteriori riscaldati provateli io adesso non li provo perché sto già morendo qui dentro forse è il caso anche di controllare l'apertura appunto del sedile che avvenga in maniera fluida ecco entrambi i sedili ci spostiamo anche da questa parte devono essere ripiegabili e reinseribili in maniera corretta come da origine ecco quindi controlliamo questa cosa qui ok mi sembra tutto a posto e vi faccio vedere un altro piccolo difetto vi faccio notare una cosa sulle maniglie che come ben sapete sulle nuove model 3 non riportano più la parte cromata ma riportano la parte diciamo boh satinata chiamiamola come vogliamo qui è tutto a posto ecco questa maniglia è completamente all'interno della carrozzeria adesso è molto difficile farvelo vedere però è completamente all'interno non che sia un problema ma è quasi fastidioso diciamo quando si va a poggiare la mano perché si sente che c'è qualcosa che non va infatti probabilmente questa va riregistrata la cosa non appare per la maniglia del guidatore quindi questa è una cosa buona perché insomma la maniglia del guidatore è quella che utilizzo molto più frequentemente però appare cioè succede la stessa medesima cosa anche per questa maniglia invece qui come potete vedere siamo perfettamente a filo quindi nessun problema sotto questo punto di vista altra cosa da notare è che qua per esempio non riesco a capire è sporco ma insomma l'auto non vi viene data in condizioni super super pulite è bella lucidata pulita nel 99% dei casi ma potreste magari trovare delle difficoltà o dei punti dove non è perfettamente pulita ovviamente la stessa cosa vale anche per le altre case costruttrici quindi non mi sto lamentando però insomma è giusto che lo sappiate allora console centrale questa parte qui deve andare assolutamente a ricaricare i vostri cellulari nel quel caso abbiano la ricarica wireless ho detto C che si legge C ma è scritto QI quindi qui posizionando il cellulare vediamo se riesco a farlo al volo fra un po' dovrebbe partire la ricarica sia di qua che di qua quindi nessun tipo di problema questa sezione che si deve aprire in questa maniera e bloccare qui per richiuderla in questa maniera quindi molto semplicemente questo non deve fare né troppa forza né troppa poca forza insomma c'è un livello di resistenza abbastanza adeguato ma non troppo qui sotto se non ricordo male vediamo se riesco a beccare perché ovviamente è molto difficile dovrebbe esserci delle pre c'è una lucetta di cortesia di sicuro e quindi dovete controllare che appunto questa cosa funzioni perché di notte ovviamente questa cosa torna molto utile non ricordo esattamente se ci devono essere anche delle porte usb ma non ne sono sicuro non credo una cosa però della porta usb che una volta era posizionata qui è spostata correttamente e saggiamente in questa location altra cosa da controllare è che vi venga data questa chiavettina usb marchiata tesla adesso ve la faccio vedere eccola qui una chiavettina usb da 108 gigabyte usb 3.1 molto carina anche esteticamente questa chiavettina vi serve per andare a registrare le funzionalità o meglio le registrazioni di sentry come si fa a vedere la registrazione sentry molto semplicemente appare questo qui e avete la possibilità di salvare la registrazione per esempio o andare a visualizzare scusate la ripresa andare a ah stava salvando o andare a visualizzare quelle precedenti come stiamo facendo vedere in questo caso possiamo vedere l'anteriore la posteriore eccetera eccetera questa è un'altra cosa da fare perché voi salvate una registrazione tra l'altro qui sembra la natura morta ma in realtà è abbastanza verde il giardino ok questa registrazione vi dà un attimo un'indicazione se ci dovessero essere qualche problema con le telecamere quindi una cosa vi consiglio di fare è quella di provarla verificare che effettivamente tutte le telecamere registrino in una qualità adeguata che non ci siano problemi di alcuna sorta andiamo chiudiamo vediamo se riesco a chiudere ok perfetto ecco piccolo trucco che vi do quando siete anche magari a supercharger e volete lasciare il clima acceso senza spegnere la vettura sbacciate la porta in modo che vedete non si apre e non esca troppa aria in questo modo avete comunque il clima che va rimane l'abitacolo bello climatizzato senza dover aprire l'applicazione eccetera eccetera andiamo sullo schermo sullo schermo ovviamente la prima cosa da fare è quella di controllare che tutte le informazioni della vettura siano quelle corrette cioè voi avete comprato una vettura che ha un certo numero di telaio detto anche VIN e questo VIN deve essere riportato all'interno di questa schermata qui ora per x motivi questa zona sarà offuscata però insomma è giusto per farlo capire controllate anche il premium connectivity giusto per essere sicuri che vi sia stato abilitato ma tanto al delivery vi faranno firmare una carta dove appunto andate a dare il consenso non so firmate qualcosa per il premium connectivity quindi sicuramente non se ne dimenticheranno controllate anche la versione e poi faremo un video dove vi faccio vedere tutta la parte di infotainment come si configura per andare a farla in maniera corretta ecco controllate tutte le cose che ci sono all'interno quindi ovviamente anche per quanto riguarda la parte posteriore queste luci devono funzionare noto subito che qui una volta c'è il tasto SOS che invece è stato spostato in questa location quindi insomma prendete un po' di familiarità e controllate un po' tutti i settaggi che facciano quello che sia giusto fare ecco aprendo poi questo menu avete la possibilità di andare su il toy box se avete il boom box come la mia ce l'ha avete la possibilità di provarlo quindi per esempio proviamo a scorreggiare adesso bisogna fare così per sentirla ok questa cosa è devastante si sente fuori si può scorreggiare si può fare un applauso questa cosa è imbarazzante da quanto idiota sia comunque controllate ovviamente che questa cosa funzioni perché lo speaker che fa funzionare il boom box probabilmente non ne sono certo ma sono quasi certo sia lo stesso medesimo che viene utilizzato poi per fare l'avvertimento per i pedoni quel suono che è amato tanto amato tanto odiato da chi guida elettrico ma che è necessario per farvi sentire da chi vi sta intorno perché ricordiamolo le auto elettriche non fanno rumore quindi ovviamente provate questa cosa qui e manco dirlo provate tutte le cose come per esempio il condizionatore potete provare a muovere le alette vedere se fa un rumore particolare ovviamente facendo tutte queste operazioni controllate anche il corretto funzionamento del tablet perché inizialmente anche se in questo momento non ho sentito molte nessuno anzi dire che il tablet ha avuto qualche problema però inizialmente c'era qualche problema dove magari a un certo punto si aprivano cose come ha fatto in questo caso ma in questo caso era voluto da sole quindi giocando diciamo con il tablet avete la possibilità di controllare quindi che funzioni il touch funzioni correttamente questo riscaldamento di sedili che abbiamo detto dovrebbe funzionare ma non lo proviamo come potete vedere la mia auto è dotata anche di volante riscaldato che direi di disattivare altrimenti muoio anche in questo caso quindi provate tutta la parte di climatizzazione e di riscaldamento di sedili perché è veramente importante soprattutto d'inverno ma anche d'estate ricordiamo che le 9 model 3 hanno una pompa di calore quindi sono abbastanza efficienti sotto questo punto di vista ovviamente per quanto riguarda il vostro telefono potete associare il vostro dispositivo smartphone quello che volete come chiave principale lo dovete fare dall'applicazione Tesla e chiaramente provatela questa cosa qui prima di lasciare le chiavi dentro in macchina e magari chiudevi dentro in realtà non c'è un grosso problema se dovesse succedere potreste comunque provare a chiamare Tesla però diciamo che è meglio evitare mi accorgo qui che ci sono due prese USB sono quasi sicuro che siano due prese USB-C eccole qua ero sicuro di averle sentite e di averle viste e ci sono quindi ovviamente provate anche queste manco dirlo provate tutti i comandi al volante quindi non so la distanza in questo caso non serve ma provate tutte le cose ovviamente il retro retromarcia retro driver eccetera eccetera park ma anche i tergicristalli provate tutto ragazzi perché una volta che provate tutto e poi ci arriviamo farete una segnalazione al ticket di assistenza di Tesla per andarvi a far sistemare tutte le cose che servono appunto ovviamente alcune di queste cose serve guidare per provarla per esempio l'autopilot ho avuto un problema magari vi lascio una clip qui l'ho risolto in una maniera un po' particolare non la dico qui magari se qualcuno ricapita quell'errore lì me lo richiede e vi dico come l'ho risolta manco dirlo ovviamente il porto oggetti come abbiamo detto prima si deve poter apridere e ovviamente non chiudere da questa posizione e tutte le altre cose ve le lascio a voi comunque c'è molto molto da vedere ma le cose veramente importanti sono che tutti i comandi nel volante tutti quei comandi lì quindi finestrini specchietti cose di questo tipo funzionano c'è un'altra cosa da dire ma questa cosa la potete verificare solamente se c'è scuro fuori queste lucettine queste freccettine che vedete a destra e sinistra delle rotelle sono illuminabili ma solamente se all'interno del tablet l'avete specificato quindi se non funzionano mi raccomando controllate che qui avete impostato le cose correttamente ma verificatelo insomma altra cosa da verificare ovviamente è che si possa aprire il vano anteriore per essere sicuri che le cose funzionano anche il vano posteriore insomma giocate un pochino con la vostra auto per verificare che tutto quello che insomma è displayato a schermo non si dice questa cosa in italiano ma capitemi si rifletta effettivamente sulla vostra vettura chiaramente un'altra cosa da verificare è che la vettura disegnata sia la medesima che voi state utilizzando potrebbero esserci dubito ma potrebbero esserci dei problemi di per esempio rendering delle ruote perché per esempio vi faccio un esempio configurazione ruote volendo potete cambiarla da qui e mettere le sport v2 quello che vi pare insomma quindi potete potete cambiarle insomma cercate di avere una certa consistenza poi ripeto tutta questa parte qui di infotainment la faremo in una cosa dedicata in un video dedicato perché richiederà molto tempo infatti la farò live su twitch poi probabilmente prenderemo un estratto di quella roba lì e la metteremo su youtube ma se volete vedere la live per farmi domande cose di questo tipo twitch.com slash andrea baccega quindi seguitemi anche lì manco dirlo provare anche queste cose insomma mi sembra abbastanza ovvio in alcune condizioni sarà difficile da provare però diciamo provateci andiamo in questa parte superiore le luci devono accendersi molto semplice questo è magnetico si può anche fare così volendo insomma è molto simpatico funziona si deve staccare si deve ripoggiare non c'è nessun problema si deve poter allungare insomma provatelo un pochino la stessa identica cosa ovviamente è ripercorsa anche da questa parte deve funzionare si deve staccare questa cosa è magnetica come potete vedere tra l'altro bel magnete bello fisso e si deve poter allungare provatele tutte queste cose perché altrimenti poi magari quando vi servono non funzionano controllate un po' tutto anche qui insomma che magari non ci siano cose particolari qui dovrebbe esserci la presa 12 volte come potete vedere in questo caso se avete qualcosa da caricare provatela perché così siete sicuri che la volta che vi serve attaccare a una presa 12 volte qualcosa che assorba per esempio io durante l'Arctic Expedition lì c'avevo il caricabatterie del portatile sapete che funziona chiudiamo qui mi pare che qui in questa parte siamo tutto ci spostiamo fuori allora intanto andiamo a chiudere il baule che ovviamente poteva anche chiudersi dall'esterno in questo caso quindi magari era il caso di provarlo magari lo provo dopo ma mi fido che funzioni baule anteriore intanto ovviamente tutta la parte di veniciatura voi dovete andarla a controllare perché la macchina è vostra andate a controllare un po' dappertutto che tutti i pezzi siano ben saldi senza grosse problematiche questo è come si deve presentare in questo momento il baule anteriore che ricordo può essere aperto quindi non metteteci cose di grossissimo valore perché attraverso un occhiero davanti insomma leggetemi il manuale non sto a chiedere a spiegarvelo può essere aperto andate a controllare se avete gli aero che tutte le falde siano belle belle salde perché gli aero non costano poco non costano tanto ma insomma non costano neanche poco quindi controllate effettivamente tutte le ruote e insomma io direi che a parte controllare le cose banali tipo le frecce funzionano gli stop funzionano la retromarcia funzionano e tutte queste cose non ci sia molto altro da dire ovviamente provate anche la chiusura che per quanto riguarda questa Model 3 devo dire è migliorata sensibilmente perché adesso posso farlo anche con una mano e si è chiusa mentre con quella precedente devi fare parecchia forza e quindi diciamo che sotto questo punto di vista Tesla Model 3 e Tesla in generale si è dato un po' da fare per migliorare quelle piccolezze che effettivamente aiutano altra cosa da controllare a parte i vari inserti quindi i panel gaps quelli di cui parlavamo prima ovviamente controllateli un po' ovunque è controllare anche il posizionamento dei vetri che sia abbastanza allineato a me sembra che qui ci siamo sulla mia precedente vecchia per esempio un po' di disallineamento tra destra e sinistra c'era quindi insomma non andava benissimo altra cosa buona da controllare e poi chiudiamo qui il video perché sarà sicuramente molto molto lungo ma ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link a una check lista fatta molto molto bene di visa per sezione eccetera eccetera è che la ricarica deve continuare a funzionare deve continuare a ricaricarsi e deve mantenere un livello di ricarica che sia quello impostato dalla vostra colonnina quindi per esempio nel nostro caso adesso fatalità non riesco a sedermi ma nel nostro caso cliccando qui abbiamo la possibilità di vedere stiamo caricando a 5 kilowatt che è quello che ho impostato da prisma quindi è tutto come dovrebbe essere non c'è nulla di fuori luogo ergo per cui ottimo ottimo ricordate che se la vostra auto non ricarica qualche problema potreste averlo detto questo ragazzi ovviamente provate anche il mobile charger e quelle cose e quel cavo lì appena avete la possibilità perché ovviamente in mobilità quei cavi vi servono detto questo dicevo io direi che possiamo chiudere questo video perché vedo dalla telecamera che siamo già a 25 minuti abbondanti spero di esservi stato utile come è stata la prima volta che molti di voi hanno gradito il fatto che abbia fatto un escursus di tutta la vettura per farvi capire che cosa andare a controllare e che cosa no io adesso aprirò un ticket per tutte quelle cosettine che vi ho fatto vedere ce ne sono altre due o tre che nel frattempo che facevo il video forse ho notato adesso controllerò meglio ma aprirò il ticket e poi ci aggiorneremo niente quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto un mi piace iscrivetevi qui su youtube se volete vedere altri video di questa sorta e anche se non li volete vedere perché comunque non costa niente instagram telegram facebook youtube boco è tutto quello che sta apparendo qui sopra e ci vediamo al prossimo video ciao